Nel calcio come nella vita, la cosa più importante è il rispetto. Per i compagni e per gli avversari. Bisogna avere rispetto sia quando si vince sia quando si perde. Ma chi non ha rispetto per le donne perde sempre. Non è accettabile che una donna su tre sia vittima di violenza. Non è accettabile che a fare violenza siano gli uomini che dovrebbero starlo a capo. Noi diciamo basta. Basta alla violenza contro le donne. Perché non avere rispetto è essere perdenti. Vinciamo insieme anche questa sfida. Grazie.